Buonasera a tutti, ora facciamo un salto avanti nel periodo storico ma rimaniamo sempre vicino per noi nell'ambito geografico della Spina Verde. Per quanto riguarda il Castello Varadello e le tecniche di inizio utilizzate mi concentrerò su nulla di nuovo in realtà perché mi concentro soprattutto su quella che è la sommità della collina quella che appunto l'architetto Belloni durante gli scavi tra 71 e 78 ha definito zona up e qui diciamo quella che è la parte sommitale con la torre e con tutti gli ambienti circostanti. La costa nella zona più sotto la vedete nella foto sotto che è quella che vi definisce zona B che è la cosiddetta palazzina che prenderò nella considerazione. Allora parto proprio dal, a virgoli che sono le fasi, si sa che appunto le fasi di costruzione del Castello Varadello quelle canoniche e chiamiamole macrofasi, quindi quali più grandi sono sostanzialmente tre. Sicuramente all'interno di queste tre grandi fasi, facendo attenzione su quelle che sono appunto anche semplicemente la posi in opera dei vari congi di pietra, dei vari materiali utilizzati, si potrebbe andare a riscontrarne delle ulteriori fasi più piccole. Quella iniziale è appunto quella che risale tra l'antico e l'altro medioevo, io ho messo come alto cronologico il quinto secolo, però sempre con il dubbio secolo più e secolo meno. Quello che appunto alcuni hanno identificato con il famoso Castrum Varadella che in realtà non è quello che appunto cita di Giorgio di Cipro ma il famoso Castrum Varadella che Giorgio di Cipro cita è da tutt'altra parte. In ogni caso il castello nel quinto secolo, quindi nel medioevo c'era, era formato appunto dalle parti che abbiamo evidenziato in verde quindi sostanzialmente da un recinto quadrangolare attorno a una torre e una cisterna per l'acqua quella che Belloni utilizzasse in una casa torre più ad angolo e una piccola chiesa dedicata a San Nicola. Il fatto che sia dedicata a San Nicola già un ulteriore conferma che probabilmente il Castrum è di età bizantina e di costruzione bizantina. La seconda fase è quella che, ecco, vi ho messo questa foto perché Giorgio Belloni faceva il confronto con quello che era la parte quadrangolare attorno a una torre con il recinto di Santo Maria Rezzonico che è più o meno della stessa epoca. Intennatamente soprattutto i materiali e le tecniche costruttive perché poi vedremo anche il recinto del Paradello più avanti e vi renderete conto che è veramente simile. La seconda fase è quella che i comanschi conoscono un po' più da vicino perché è quella legata alle ricostruzioni delle fortificazioni comansche da parte di Federico Barbarossa e per quanto riguarda appunto il nostro Castello Guaratello abbiamo la prima parte della torre e parte della ricostruzione delle murature attorno. E poi l'ultima fase che è quella di Epoca di Scontea si tiene come riferimento al 1426 ma in realtà probabilmente è un po' più antico perché al 1426 in realtà si rifà a una data in cui sono stati stipulati degli appalti di acquisti di materiali relativi alla costruzione e diciamo comunque alla manutenzione del Castello quindi probabilmente di qualche anno o qualche decennio precedente. Di questa fase appunto abbiamo la sopraelevazione della torre con le relative sopraelevazioni delle mura attorno, la costruzione poi di altri ambienti attorno soprattutto quello di una cisterna per l'acqua e di altri ambienti un locale che viene definito dal Belloni locale macina proprio per il fatto che è stato trovato all'interno questo manufatto e altri tre locali, Belloni che definisce ambienti di servizio e effettivamente solo delle fonti scritte ci potrebbero dare una risposta su questo. Per quanto riguarda appunto queste tre macrofasi ovviamente la distinzione è data dal tipo di materiale che è stato utilizzato e soprattutto anche dalla posa in opera. vi ho messo questa foto dove salta subito all'occhio, questo è diciamo un muro più antico quello attorno alla torre questo qui e questo che lì si appoggia si vede chiaramente in quest'angolo qua ad appoggiarsi con il successivo conseguito da materiale diverso e anche lavorato in modo diverso. Inoltre c'è l'apertura che è quella che consente a volte di datare anche la parete in quanto comunque c'è un riferimento stilistico. anche se ripeto andando a vedere poi all'interno di questa parete si vedono parecchi rifacimenti ci sono quei blocchi con delle incisioni moderne che si vede che sono stati inutilizzati. l'iscrizione al contrario quindi sono stati messi successivamente. E' interessante poi vogliere che l'impianto del cassello più antico va proprio ad appoggiarsi a costruirsi direttamente su quella che è la roccia, la roccia del posto. Per quanto riguarda i rapporti stratigrafici qua vediamo benissimo il punto in cui abbiamo l'interruzione della torre di Federico Barbarossa e appunto la sovraelevazione di età di santea. lo vedremo anche successivamente in cui si vede sia per il fatto che si distinguono in questo punto le vecchie merlature per i conci che sono posati in posizioni differenti ma appunto come vedremo dopo anche la lavorazione dei conci utilizzati nelle due parti è appunto differente. Ecco due parole per quanto riguarda il materiale utilizzato. Abbiamo quasi tutto materiale locale, materiale locale che ci fa anche in qualche modo pensare che abbia limitato i costi, mi sembrava male ma comunque sempre a tenere in considerazione che nelle costruzioni antiche più il materiale arrivava da lontano ovviamente maggiore era anche il costo della costruzione in sé. Rimanendo appunto vicino, nella spina di reale stessa, il materiale usato per eccedenza è appunto quella che viene chiamata di tramuriera che è l'arenaria. Siamo abituati sempre a vedere questo sasso da Camerlata, in realtà di dietro c'è una delle calde probabilmente anche quella utilizzata per la costruzione del baradello stesso. L'arenaria la si trova prevalentemente utilizzata nella torre. raramente la si trova nelle costruzioni della fase più antica, quindi della fase alta medievale. Si trovano alcuni lotti e non lavorati come quelli che abbiamo nella torre. Altro materiale è la gomofonite, altro materiale locale, quindi questi ciotoloni che appunto affiorano dalla collina stessa del castello baradello e anche qui la troviamo impiegata, a differenza dell'arenaria, nelle fasi più antiche. Altro tipo di materiale, quello che viene chiamato appunto sasso di Moltrazio, perché tra cattaria, una delle cave appunto si trova nei vintori di caratteri di Moltrazio e qua la vediamo riempiegata nella, diciamo nell'angolo, nell'angolatura della moratura più antica. Abbiamo poi dei servizi di graniti sia nelle fasi più antiche, questa è sempre l'angolatura di prima, dove appunto vediamo alternati dei conci di caratteri di Moltrazio con dei blocchi sempre sbozzati di granito. Qui ritorneremo dopo su questo argomento, è un blocco di granito ma in realtà riutilizzato e poi troviamo lo stesso materiale ancora in un'architrave dell'età, cioè nella fase di scontea. Altro materiale che si trova utilizzato qua e là all'interno delle murature, soprattutto quelle più antiche di quelle alto-medievali, è il marmo di musso, vediamo qua alcuni dei frammenti sempre nella solita muraria più antica. vedete che qua si vede, si nota che si tratta di un trammento riutilizzato, si vede chiaramente che è appunto la lavorazione del blocco. e poi c'è l'impiego dell'atterizzo, che è molto raro. Abbiamo l'atterizzi sia per quanto riguarda la fase più antica, vediamo qui questo è un telurone di età romana riempiegato, ma poi anche nella parte dei soprassi di scontei dove sono stati riempiegati alcuni l'atterizzi proprio per chiudere gli spazi tra le murature precedenti in età federiciana e poi proseguire a innalzare le lavorature successive. Un materiale che non si conserva più ma che sappiamo essere utilizzato sia dalle fonti scritte perché appunto nella patria di cui parlavo precedentemente all'inizio sappiamo che ci sono degli ordini mileniani e poi che lascia nelle murature delle tracce in negativo. Qua vediamo nei soprassi di età di scontea appunto i fori che sono probabilmente i fori dove si testavano i cammini di ronda. Ce ne sono poi altri sempre nelle murature dove non hanno solo questo scopo ma sono ad esempio i fori dei ponteggi, quindi i ponteggi che erano stati utilizzati per la costruzione del castello e come succedeva poi nei porti negli antica venivano magari lasciati perché poi se bisognava intervenire sulle murature e quindi mettere nuovamente in mano erano già comodi da appunto poter utilizzare. Il materiale ovviamente che non si poteva fare meno era marca perché appunto era elegante che teneva assieme il tutto. Qui ho messo appunto quello che era il procedimento. Lo si otteneva sia dalla cultura di rocce calcare ma anche dalla cultura di marmi. Soprattutto nella fase tardo-antica, non solo per Roma ma per gran parte delle città dell'epoca, molto del marmo di età romana veniva appunto cotto per poter appunto ottenere della calce, della manta. Un altro tipo di marca particolare utilizzato nel castello Varelello lo si trova soprattutto impiegato in quelle che sono le cisterne, quello che si chiama corciotesto. È impiegato nelle cisterne perché la sua funzione era proprio quella di impermeabilizzare la parete. Quindi semplicemente della manta di calce mescolata appunto con dei baterizi. Qui ho messo la fotografia di quella che è la cisterna sulla piazza d'armi. Per chi ha presente quel pianoro in fondo, dopo la baita dove c'è la torretta. In questa foto che era stata scattata l'estate si vede molto bene il paramento qui in fondo della stesura di calciotesto sulla parete. Quindi probabilmente doveva essere interamente rivestita. Come è? Lo è rivestita la cisterna voltata all'interno della roccella temoraria. sempre della prima fase, della fase più antica del castello. Quando, oltretutto, quando la cisterna in sacca si vede molto bene che non si tratta di una vasca sola, ma in mezzo la vasca divisa in due. Per quanto invece riguarda le tecniche divise, quindi il modo in cui è stato messo il materiale, non solo ma anche il modo in cui è stato lavorato. Allora, per quanto riguarda la torre, quella dita federiciana, abbiamo quella che è in infinita opera quadrata, quindi blocchi di arenaria squadrati. Abbugnato perché, e lo vediamo ad esempio qua, si vede molto bene, perché hanno questa sorta di cuscinetto che sporge appunto dai blocchi. È una tecnica che si inizia a utilizzare all'intorno al XVI secolo, soprattutto con il bugnato. Teniamo presente che appunto nelle fasi precedenti, quindi quelle tardanti, in epoca tardantica, la costruzione dei vicini opera quadrata era andata persa, o perlomeno era impiegata solo in edifici in cui bisognava far trasparire il lusso, quindi pensiamo alle chiese, ad esempio. Quindi per le fortificazioni non veniva impiegata. Anche perché questo prevedeva comunque l'impiego di mano d'opera assolutamente orientata, quindi che arrivava dall'estero, che arrivava da lontana e quindi andava pagata. Cosa che invece ha finito torna in Augia al XII secolo con più frequenza. Se guardate le operazioni, soprattutto anche la manovolanza impiegata, vedete che si tratta di manovolanza, diciamo, specializzata. Questo perché? Perché innanzitutto bisognava portare blocchi in cantiere, ma poi soprattutto non solo c'era bisogno del cavatore e di chi lo trasportava, ma soprattutto se aveva bisogno dello scalpelino, che ovviamente non poteva andare a dare forma in modo casuale i blocchi, ma ovviamente doveva avere comunque delle conoscenze empiriche, di geometria, quindi qualcuno esperto che appunto conoscesse il modo e quindi appunto di andare a trattare e lavorare i blocchi. Vi ho ricordato da una miniatura qui nell'angolo, se era appunto quello che era lo scalpelino con l'uso di una squadra. Questa è la parte del soprazzo visconteo, dove comunque viene usata l'opera quadrata, però appunto i blocchi non hanno più la caratteristica del bugnato, come vi ho detto nel XII secolo, ma sono dicimi. Nella fase quattro invece viene utilizzato un altro tipo di tecnica costruttiva, che appunto viene definita piccola parata, quindi lotti in piccole dimensioni in questo caso, che addirittura non sono neanche sbozzati, quindi non richiedono l'intervento dello scalpelino, ma semplicemente l'operaio e il muratore è in grado di metterli in opera. Nel caso del Castello Guardello si tratta soprattutto di cioccoli, quindi neanche appunto di blocchi sbozzati. A differenza però dell'opera quadrata in cui dicevamo, era lo scalpelino che doveva conoscere e avere degli elementi di geometria, in più o meno pubblica, qui il muratore nonostante probabilmente non aveva delle conoscenze di geometria, doveva comunque essere in grado di mettere in opera del materiale che non era regolare. Ovviamente è molto più difficile mettere in opera dei cioccoli rotondi rispetto ai blocchi collati che vanno semplicemente a sovrapporre. Per cui si presuppone che comunque il tipo di maestranze che andavano a operare in questi cantieri avessero comunque delle esperienze molto grandi alle spalle. Ecco, non siamo più fronte a solo un piccolo apparato, ma un piccolo apparato occorre in piedo. Nel senso che, oltre ai blocchi di gonfolite, se noi andiamo ad osservare le murature della fase più antica, quindi il quinto, il VII secolo, troviamo tantissimi elementi di età romana impiegati all'interno delle murature. Allora, in modo particolare qua avete un'urnetta che è uscita durante le ultime campagne di scavo, promossa appunto dai musei civici e dall'Università di Padova, perché è presente sulla, diciamo, la scalinata in cemento di porta verso il castello, subito all'inizio, sulla sinistra, c'era appunto emesso questo frammento di muro con un'urnetta che aveva messo appunto la ricostruzione qui di fianco. Quindi erano castornetti di età romana in cui appunto si andavano a propositare le ceneri record. Abbiamo già parlato prima di numerosi doti di marmo di musso riempiegati, sempre di età romana. Ce n'è tra l'altro un'esposta all'interno del museo appena allestito che ha una parte figurata, quindi proviene proprio da un'area romana. Questo è quello più conosciuto perché già il Belloni non aveva messo in evidenza, e si tratta di un coperchio nel servizio di un'urnetta del genere. Troviamo nello spigolo della muratura più antica. E poi anche qua abbiamo dei tegoloni. I tegoloni sono sempre di epoca romana. L'ho messo qua come venivano appunto impiegati sul tetto. Vado a chiudere con questa serie di carrellate che ho usato, carrellate di foto che ho usato di finire che ho inventato e ricostruito. Ovviamente ogni tecnica costruttiva, ogni tecnica che inizia la scelta dei materiali, il modo di metterle in opera, è comunque legata appunto anche se vogliamo alla cultura. Qui ad esempio abbiamo innanzitutto la torretta che c'è appunto sulla piazza Darni, dove viene completamente ricostruito un'immagine ideale di quella che era il medioevo della metà dell'Ottocento. Dove troviamo, diciamo, un pur curire di stili architettonici medievali. Quindi andiamo appunto dalla commissione di arti sotto a tutto sesto e poi di arti gotici. Poi invece per quanto riguarda ad esempio gli restauro venuti nel tempo, vedete nella foto in bianco e nero il restauro fatto tra 1902 e 1903, dove arbitrariamente era stato ricostruito, quindi senza nessuna logica, per farne anche quello che dicevamo prima che le cose andrebbero ricostruite, ma se non altro con una logica di sottofondo, dove appunto era stato ricostruito in modo arbitrario l'ingresso della parte più ambita. Durante gli scavi appunto del 1970 il Belloni va a ricostruire per nastiosi un arco. Lui l'aveva rinvenuto all'interno dello scavo, quindi tutto sommato lo mette in opera, ma tenta con qualche modo di fare capire che l'operazione è stata fatta successivamente inserendo dei laterizi. Lui viene da sorridere sempre sugli interventi del Belloni perché lui va a ricostruire quasi totalmente gli ambienti. Lui non se ne accorge, ma se noi andiamo ad osservarla con un atto critico, ci rendiamo conto che la tecnica che lui ha utilizzato, che è stata utilizzata per la costruzione dell'ingresso, sono ciotoli livellati con delle vaste di multrasmo, noi troviamo un po' riempiegata in gran parte da un muratore d'Italia di scontea. E' comunque una logica che si usava anche all'epoca per i restauro, quindi sempre per rimanere raccolto il tema e capire quanto le tecniche edilizie, in qualche modo, ci fanno anche capire la cultura del periodo in cui vengono utilizzate. Ecco, il parallelo comunque, soprattutto nella zona, dicevo prima, avrebbe ancora molte cose da dire. Gli scavi che sono stati fatti negli anni settanta da Belloni è vero, lui in qualche modo ha sterrato e recuperato il materiale adatti a una fotografia, che è quella di cui abbiamo attualmente, però appunto se non andiamo a guardare le murature ci possono dire ancora molto, soprattutto su quella che era la configurazione architettonica di alcuni ambienti che secondo me non sono stati visti e in realtà hanno lasciato delle tracce ancora visibili. Io concludo qua, grazie. Una cosa sempre per quanto riguarda l'architettura in limino, adesso stiamo parlando di capanne, nel contempo, mentre veniva costruita la parte diciamo più antica del castello Varadello, quindi la cerca muraria per intenderci subito attorno alla torre, nello stesso periodo con l'arrivo di popolazioni seromani, che ci fa capire anche l'uso completamente diverso dei materiali, si iniziava a costruire, diciamo, a riprendere in qualche modo le tecniche edilizze che venivano in qualche modo utilizzate durante la protostoria, quindi contemporaneamente si aveva l'utilizzo di due materiali completamente diversi, quindi quella bizantra romano bizantina che andava a costruire i castelli e quella gota che arrivava e si iniziava appunto a costruire i propri edifici con materiali deperibili, quindi come più o meno le capanne che abbiamo visto prima. Grazie. 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 Grazie.